Anche le Marche celebrano il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza contro le donne. Un appuntamento importante è quello del 25 novembre alla luce dei dati nazionali sulla violenza di genere. Nel 2023 sono state 105 le donne vittime di femminicidio, di cui 4 nella nostra regione, mentre 23 sono le donne uccise nelle Marche dal 2017 ad oggi. Ma il femminicidio è la manifestazione estrema di una lunga scia di violenza se pensiamo che solo nel 2022 705 donne si sono rivolte ai centri antiviolenza delle Marche. Secondo Eleonora Fontana, Cristiana Ilari e Claudia Mazzucchelli, segretaria regionale di CGL Cisle Will, le azioni e i provvedimenti normativi adottati fino ad oggi non hanno determinato quel contrasto alla violenza contro le donne e i numeri nella loro drammaticità ci dicono che bisogna fare di più. Le emergenze sanitarie prima, economica poi, hanno aggravato le diseguaglianze e le discriminazioni di genere, generando isolamento sociale, una delle principali cause delle situazioni di violenza. Se da un lato bisogna lavorare sull'inclusione lavorativa come fattore necessario di autonomia, dall'altro occorre riflettere sulle reali condizioni di lavoro di tante donne che nella nostra regione come nel resto del paese si misurano con disoccupazione, precarietà, riduzione dei diritti e con condizioni economiche difficili che le rendono più indifese di fronte a ricatti, soprusi e molestie anche nei luoghi di lavoro. Il contesto del lavoro nelle Marche vede da anni le donne fortemente penalizzate in termini di occupazione, di qualità del lavoro, di valorizzazione delle competenze. Molte donne hanno perso il lavoro nelle Marche 6.000 posti per le donne lavoratrici nel 2022 o si misurano con lavori poveri e la mancanza di sicurezza economica e di una rete di relazioni le espone ancora di più al rischio delle violenze.